Cari figli, so di essere presente nelle vostre vite e nei vostri cuori. Sento il vostro amore, odo le vostre preghiere e le rivolgo a mio figlio. Però, figli miei, io voglio essere, mediante un amore materno, nella vita di tutti i miei figli. Voglio radunare attorno a me tutti i miei figli, sotto il mio manto materno. Perciò invito voi e vi chiamo apostoli del mio amore, perché mi aiutiate. Figli miei, mio figlio ha pronunciato le parole. Padre nostro, Padre nostro, che sei ovunque e nei nostri cuori, perché vuole insegnarvi a pregare con le parole e i sentimenti. Vuole che siate sempre migliori, che viviate l'amore misericordioso che è preghiera e sacrificio illimitato per gli altri. Figli miei, date a mio figlio l'amore per il prossimo. Date al vostro prossimo parole di consolazione, di compassione e atti di giustizia. Tutto ciò che donate agli altri, apostoli del mio amore, mio figlio lo accoglie come un dono. E io sono con voi perché mio figlio vuole che il mio amore, come un raggio di luce, rianimi le vostre anime, che vi aiuti nella ricerca della pace e della felicità eterna. Perciò, figli miei, amatevi gli uni gli altri. Siate uniti mediante mio figlio. Siate figli di Dio che tutti insieme, con cuore colmo, aperto e puro, dicono il Padre nostro e non abbiate paura. Vi ringrazio.